Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini, le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Nessuna programmazione, nessuna reale ricerca delle priorità per i cittadini abruzzesi è una mancanza di trasparenza che non consente la visione dei singoli capitoli di spesa e quanto sostengono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle a proposito del bilancio che si sta discutendo in questi giorni in Consiglio regionale. Secondo Marcozzi, Mercante, Pettinari, Ranieri e Smargiassi, un governo regionale responsabile deve assolutamente avere ben chiare le effettive necessità della regione e lavorare su quelle tutelando il territorio e i cittadini. Abbiamo presentato molti emendamenti, un po' su tutte quelle che sono le aree che riteniamo di criticità della regione e su cui riteniamo anche che il governo non stia programmando efficacemente. Una programmazione che dovrebbe partire dalle priorità che il governo si dà per mantenere l'Abruzzo almeno in linea con il resto dell'Italia. Noi invece continuiamo ad andare indietro. A oggi non ci sono fondi per quello che riguarda la ricerca, non ci sono fondi sufficienti almeno per quello che riguarda il sociale. Conferenza stampa congiunta dei gruppi di Forza Italia Abruzzo Futuro per denunciare le gravi carenze del bilancio regionale. Per le minoranze di centrodestra il bilancio presentato dalla maggioranza certifica la fine del governo d'Alfonso, più attento agli annunci che alle vere emergenze dell'Abruzzo. Ad elencare le priorità dell'agenda regionale è il presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo. Non si danno risposte, soprattutto si persevera nell'annuncio del nulla. Ci era stato detto che c'erano i 50 milioni per le province per intervenire sull'edilizia scolastica che sono stati tolti alla discarica di bussi. E alla discarica di bussi avete visto quello che è successo, nel senso che il ministero ha bocciato quel progetto, quindi i 50 milioni devono tornare sulla discarica di bussi. Il vicepresidente Gatti parla invece di una giunta che naviga senza un approdo e definisce questo bilancio come la chiusura dell'esperienza di centrosinistra. Sono 43 mesi che governa il centrosinistra in questa regione, senza una rotta e quindi senza un approdo, senza che noi e i cittadini abruzzesi si possa sapere che regione intendono riconsegnare agli abruzzesi. Non è mai stata fatta una lista delle priorità, non c'è stato mai un pensiero chiaro sulla sanità, sui trasporti, cosa deve fare il pubblico, cosa deve fare il privato. Sulle politiche del lavoro ci si limita a commentare i dati dell'Istat, ma non si fanno bandi, progetti, non ci sono idee, iniziative. Sulla sicurezza del territorio, sulle politiche turistiche. Insomma, io credo, non vorrei essere ingeneroso, che siano stati 43 mesi perduti. Penso che sia per calare il sipario su questo quadriennio del centrosinistra in Abruzzo. Nel corso della conferenza stampa, tenuta dal presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e i rappresentanti della Sise regionale, sono stati presentati i piani di ricostruzione per edifici pubblici, scuole e chiese che prevedono un investimento complessivo di 285 milioni di euro, derivanti dalla cabina di coordinamento per il Sisma 2016-2017. Nel dettaglio sono oltre 46 milioni, fondi destinati a municipi e strutture pubbliche, 29 milioni per le scuole e 85 per l'edilizia residenziale pubblica. L'elemento fondamentale per le opere pubbliche è la risorsa finanziaria, ovviamente che fa il paio col bisogno di quell'opera pubblica. Dalla risorsa finanziaria, che è cospicua, rilevantemente cospicua, adeguata, noi adesso dobbiamo far partire la procedura per la scelta del progettista. Il progettista deve fare il progetto e dobbiamo raccogliere i pareri. Tutto questo in 90 giorni si può definire e partire per la gara d'appalto al termine della quale c'è la consegna dei lavori per quanto concerne l'impresa. È stata restituita la cittadinanza aquilana e l'intero Abruzzo la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, completamente restaurata dopo i danni subiti in seguito al sisma del 6 aprile 2009. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità religiose, civili e militari. Presente anche il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio.